Ciao ragazzi, benvenuti nel post partita di Parma-Roma, terminata col punteggio di 2-0 per i giallorossi, ottavi di finale di Coppa Italia che vede appunto l'eliminazione della squadra crociata. È vero, dovevo portarvi questo video ieri sera dopo la partita, quindi il post partita, ma la partita è finita tardi, io ero allo stadio, è finita verso le 11.10, tempo di andare alla macchina e venire a casa, si è fatta mezzanotte, quindi non riuscivo a portarvi, il video non aveva veramente senso portarvi il video a quell'ora, e quindi ho detto lo faccio con calma domani ed eccomi qui a fare il video. Ieri sono stato asperamente criticato per il video che ho portato, un video forte, un video in cui mi arrabbiavo fortemente nei confronti di una tifoseria che sinceramente mi aveva molto deluso. Durante la partita ovviamente ho visto, ho dato un'occhiata al pubblico che era decisamente aumentato rispetto ai numeri che davano i giornali fino al giorno prima, quindi vuol dire che nella giornata sicuramente c'erano stati molti più acquisti di biglietti, quindi questo mi fa molto piacere. Non credo per il mio video, credo esplicitamente perché la gente si è svegliata magari tardi e ha acquistato il biglietto un po' più tardi, ma mi ha fatto molto piacere questa cosa, secondo me abbiamo anche raddoppiato il numero degli acquisti fatti del giorno prima. La mia critica è stata molto forte, è stata criticata prevalentemente da chi ha preferito non venire al Tardini per le sue ragioni. Ho visto, diciamo, delle critiche prettamente da persone che non hanno capito che io criticavo non chi non venisse al Tardini perché aveva problemi lavorativi o perché avesse problemi di salute, ma criticavo tutti gli altri, tutti coloro che avevano comunque preferito guardare la partita dal proprio divano per essere semplicemente più comodi piuttosto di venire a sostenere una squadra, una squadra che meritava il supporto, una squadra che, ricordiamolo, settima in classifica, ci dovrebbe essere un entusiasmo gigantesco per una squadra settima in classifica a un punto dall'Europa League dopo la cavalcata dei quattro anni dalla Serie D alla Serie A. Ci deve essere quell'entusiasmo che purtroppo ieri è mancato. E questo entusiasmo mancato purtroppo l'hanno sentito anche i giocatori che in campo non hanno dato il 100%. È vero, avevamo una formazione ancora una volta rimaneggiata perché, lo ha detto D'Aversa, il suo turnover non è stato un turnover di scelta per quanto riguarda, non so, la Coppa Italia a me non interessa, quindi turnover a go-go. No, è stato un turnover obbligato, quasi dal fatto che, ovviamente, Inglese e Cornelius si erano allenati veramente soltanto per una settimana dopo il loro infortunio lungo. Stesso discorso vale per Scozzarella. Dermaco e Gaiolo hanno dovuto far rifiatare Iacoponi e Bruno Alves, che sono partite, 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 che fanno titolari di continuo. Laurini stesso discorso vale per Darmian, anche se su questo ci credo poco, su Colombi per Sepe, anche se Colombi secondo me ha giocato anche una bella partita, Laurini, Darmian e credo anche per un discorso di Kuluseski. Ecco, quelli sono i cambi che non ho capito, sinceramente io non l'avrei fatto. Io avrei preferito giocare con Kuluseski in campo, Darmian in campo e Sepe in campo. scelte di D'Aversa e quindi si prende lui le responsabilità riguardo. Lui ha detto che sono stati, diciamo, dei cambi obbligati e quindi ne prendo atto e va bene. Un Parma, comunque, ripeto, per quanto riguarda la prestazione, è riuscito a giocare in maniera molto equilibrata contro una Roma che invece ha giocato con i titolarissimi. Cioè, a parte Dzeko che non c'era, c'era Kalinic, per il resto comunque c'era Pellegrini, Florenzi, Smalling. Insomma, c'era una formazione titolare di tutto rispetto, Paolo Lopez in porta. Quindi, il Parma è riuscito comunque a giocare con questi giocatori, chiamiamoli di seconda linea, chiamiamoli così, anche se comunque da metà campo in su non eravamo assolutamente di seconda linea, a parte per Siligardi. Beh, ecco, è riuscito ad avere una prestazione molto equilibrata, abbiamo avuto le nostre occasioni. Il tiro di, credo, Kuczka, non ricordo se Kuczka o Kurtic, purtroppo dallo stadio, ripeto, non riesco a identificare uno o l'altro. Il tiro che ha sfiorato veramente di poco l'incrocio dei pali. Oppure l'occasione di Inglese dopo il primo gol della Roma, l'ottima parata di Paolo Lopez, un Barillà che non riesce ad arrivare all'aggancio finale per riuscire a calciare. Insomma, abbiamo avuto le nostre occasioni anche per riuscire a segnare. Purtroppo sfortuna ha voluto che non ci siamo riusciti. L'ottima, diciamo, gli ottimi giocatori della Roma sono poi usciti fuori perché Pellegrini ha fatto un gol sontuoso, bellissimo. Il calcio di rigore c'era e quindi niente da eccepire. C'è stato anche un errore precedente proprio nostro, poco prima del calcio di rigore. Quindi lì è stato anche un errore difensivo, ma ce lo prendiamo. Nel senso che, insomma, ragazzi, è un'eliminazione da una parte ingiusta e dall'altra parte giusta. Dalla parte giusta perché comunque siamo riusciti per tantissimi minuti a giocare in maniera equilibrata. E quindi penso, porca miseria, pensa se avessimo avuto tutti i titolari in campo, tutti in forma magari. Pensa un po' cosa avremmo magari potuto fare e magari ottenere. Pensa se avessimo avuto un pubblico che avesse spinto la squadra in un modo diverso. Ecco, non tanto per i boys che comunque hanno cantato e io ho cantato in mezzo a loro, ma quanto, diciamo, per ingiunare tutto il pubblico del Tardini, magari un Tardini quasi pieno. Ecco, sarebbe stato decisamente diverso. Dall'altra è stata meritata perché sia il pubblico, ovviamente, che è stato un po', diciamo, non so come utilizzare, ecco, ha un po' deluso sotto queste aspettative di grande passione. Perché io penso magari ai sette soci, io penso ai sette soci e dicono, cavolo, siamo settimi in classifica, a un punto dall'Europa, partita importante in ottavio finale di Vicoppa e questi si presentano in 3.000, 4.000. Cioè, capite che viene anche voglia a loro di non investire più in una squadra del genere. Posso capire allora in questo punto perché commisso, che stava appunto provando ad acquistare il Parma, abbia scelto più che altro, anche se costava decisamente di più, la piazza di Firenze. Lo capisco a questo punto perché, ragazzi, oggettivamente siamo veramente tra gli ultimi posti in Serie A per quanto riguarda l'affetto del pubblico. Ed è una cosa che mi fa male, anche perché ci sono tanti appassionati del Parma. Guardate tutta la curva dei boys. Ci sono gli appassionati e quindi perché non dimostriamo questa passione? Perché si è persa negli anni questa passione per il Parma Calcio? Una passione che ci spingeva ad andare sempre allo stadio, lo stadio era sempre pieno. Ora ci sono stadi sempre più vuoti. Sì, ci sono tante ragioni, il caro biglietti, i stati faticenti, tutte queste cose. Avete ragione sui orari improponibili, avete ragione su queste cose. Però dall'altra penso, ma la passione? È finita davvero questa passione? Non c'è più la passione? I giocatori in campo poi ne risentono e si è visto ieri che in un po' ne hanno risentito. Ne sono convinto, quindi non lo so. Io ho una domanda soltanto per chi ha deciso di non presentarsi dicendo ma l'orario era assurdo e improponibile e c'era troppo freddo. Solo quest'ultima parentesi. Ti chiedo, se la partita anziché essere Parma-Roma di Coppa Italia di giovedì sera fosse stata alla stessa ora e allo stesso giorno con gli stessi gradi fuori fosse stata Parma-Juve di campionato, cosa avreste fatto? Sareste rimasti ancora a casa? Secondo me no. Fatemi sapere in un commento qui sotto cosa ne pensate della partita. Ripeto, sono ancora molto deluso. Mi sono preso tutte le critiche del mondo ieri. Non so cosa dire, io continuo a pensare di avere la ragione. Vi sto esponendo anche le motivazioni. A riguardo, sono convinto che anche i sette soci la pensino come me. Ne sono convinto perché loro essendo imprenditori dicono questi non si sono presentati allo stadio. Ragazzi, rendiamoci conto di questa cosa. Mi chiedo come facciamo a pensare che possa arrivare un arabo o un russo ad acquistarci o un americano quando abbiamo un pubblico che oggettivamente quando ci sono le partite importanti in cui bisogna mostrare la propria passione perde prima ancora di iniziare la partita. Vabbè, fatemi sapere. Ciao da Papyrus. E sempre e comunque Forza Parma.